Ecco qui, vedi chi ha aperto? Vale, qui c'è il pesce chirurgo, pille gialla, è il pesce chirurgo Così, angelo azzurro, quello rigato Poi c'è il pesce farfalla filamento, che è questo Questo, questo grandissimo, giallo Poi c'è il pesce farfalla standard Pesce unicorno arancione Bellissimo Bellissimo, è una prossima, è un pesce grande Pego, invocano il pagliaccio E' quello là che ha fatto l'anemone, il pesce pagliaccio Vediamo se lo troviamo, il pesce pagliaccio Dove è il pesce pagliaccio? In qualche anemone sarà nascosto Non sono questi piccolini, qui esce unicorno Ma non c'è un pesce pagliaccio? Eh sì Ma non c'è un pesce Cattivo Il pesce pagliaccio Grazie.